I ragazzi che non avevano i soldi per pagare l'ingresso è successo un mezzo catatrisma ma gli unici che riuscirono a mantenere un ponte fumo noi con la marcia finale dalla marcia finale che partì dalla discarica di Corogosio al social forum e per la conclusione parteciparono tantissimi di questi ragazzi e questa fu l'unica possibilità di contatto tra il mondo organizzato militante, le organizzazioni della società civile africana che adesso c'è ancora, non c'erano e gli ultimi delle township in Nairobi che attraverso la nostra esperienza, l'esperienza sportiva ebbero un contatto che altrimenti non avrebbero avuto ma anzi, avrebbero avuto la guerra e il conflitto quindi è davvero un grande ponte lo sport è un grande strumento che è utile in social forum è utile al movimento globale perché allarga la base del movimento trova il linguaggio giusto per allargare la base due, la cosa che il grande tema del rapporto in Italia che il soltiamo ovviamente di qualche migliaia di chilometri andiamo da noi con le federazioni sportive per quello che riguarda appunto questo aspetto sociale e lo sport in particolare